Ciao a tutti ragazzi, io sono AgroModerni e siamo qua in un nuovissimo episodio di Profarming stagione 3 Bene, ragazzi in questo episodio, episodio 49, penso che per l'episodio 50 non riusciremo ancora a trasferirci Prima voglio finire di far tutto in modo che così siamo a posto e lasciamo puliti questa mappa facendo tutti i soldi possibili Allora, in questo episodio non c'è wiki, cioè gamerale, perché lo sto registrando un po' alla veloce Infatti il video sarà anche un po' più corto del solito, sarà solo sui 15 minuti Perché così almeno riesco a caricarvelo in tempo, visto che il video di ieri alla fine è diventato troppo lungo E ho dovuto caricarlo e farvelo avere in ritardo E non è una cosa che mi piace molto, quindi preferisco farveli un po' più corti Solo per adesso che ci sono le vacanze, perché poi mi alzo la mattina alle 7 e li metto a caricare Quindi tornerà poi tutto alla normalità A proposito di vacanze, parliamo un pochino di qualcosina Allora, oggi vorrei parlare con voi Di wiki, no Vorrei parlare con voi dei compiti Avete fatto i compiti? Io per fortuna li ho finiti ieri Cioè ieri per voi che state vedendo il video In realtà per me li ho finiti oggi che sto registrando Cioè domen... sabato Allora, 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 allora Vabbè, compiti normali come il solito ragazzi Come tutte le scuole praticamente Diciamo che non ce ne sono né pochissimi Ma per fortuna non ce ne sono neanche tantissimi Quest'anno diciamo che sono date un po' più leggeri, prof Penso, non vi assicuro niente Dato che volevo fare... Avevo avuto un'idea per un... Per una cosa che dovevo fare Perché in teoria come compito dovrei tenere una lezione su Pompei Avevo pensato di fare uno dei miei video Però fare un qualcosa di un po' più figo E magari se viene bene Penso che lo caricherò anche sul canale Così chi... Cazzo ne so Io vabbè, io lo faccio qui su Pompei Se c'è qualcuno che deve studiare il Pompei Può studiare con una lezione fatta da agromoderni Pensate un po' Lol 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 Così per fare un po' di tutto Sempre un video in più sul canale Ehm... Ciao tizio... Ah, è là Che cazzo... Dai, non c'è mica voglia di andarti lì a sbloccare Allora... Andiamolo lì a sbloccare Altrimenti lui non è contento Valà... Ehm... Parte il fatto che questo... E' epico questo... Randazzo sporco Bellissimo Probabilmente è bello Ecco, non ve lo... Non sono riuscito a farvelo avere... Nella... Ehm... Ehm... La presentazione? La recensione? Quello che volete? No, tu non ti fai un altro giro, eh Però cosa vuoi fare? Non ti fai un altro giro tu Allora, lo portiamo in mezzo al campo E lo facciamo partire Oh, non ne vuole sapere, eh, ragazzi Scusatemi, ma... Toccherà far così Ehm... Mi dispiace, mi dispiace Diciamo che è stato un po' un fiasco qua il courseplay Perché alla fine c'è sempre un problema ad ogni puntata E' la mappa che non è proprio Non è molto adatta al courseplay Courseplay Eh già, però se non la accendo Ecco perché si voleva andare Dai, forza Dai, gas Ah, me l'ho spento Allora, allora, allora Poi un'altra cosa che non so se vi ho già detto C'è... C'è un... Una nuova maglietta sul mio sito E vabbè, è stata creata un pochino per una satira Cioè, satira, oddio Per una cosa ironica perché Come si dice? C'è una cosa che... Vabbè, richiama un po' i maiali perché È già da un po' di tempo che scherzando Con Tech e diciamo quelli... Chi è più, diciamo, vicino a Tech Chi fa parte dello staff del suo forum Chi è il modder Chi è uno che fa mod per il suo forum, eccetera Sa questa storia Nel senso che hanno iniziato a parlare di maiali Perché uno di... Uno di quelli dello staff Ha un allevamento di maiali Il meglio, il suo padre E allora si è creato il tormentone Libera i maiali, no? Tipo... Non so se avete presente Smithers, libera i cani Quello dei Simpson È stessa cosa E... Si è creato il tormentone E niente Aspettate, eh Anche qua, devo vedere una cosa Tac Richiede autista E niente, allora Qui è là, qui è là Poi alla fine ho fatto la maglietta La potete comprare Si chiama... È una maglietta dove ho fatto Ho fatto in stile vignetta Un maiale E poi ci ho scritto sopra Liberati i maiali Il maiale è tutto imbruttito L'ho disegnato io, ragazzi, eh Parecchio figa Diciamo che era Una delle prime volte Che mi capitava di fare un lavoro del genere Nel senso trasformare in vettoriale Una foto Il primo è stato lì Per la maglietta ufficiale agromoderni Che sono già partito da una base Perché avevo già trovato uno schizzo su internet Poi sono andato un pochino A modificarlo A sistemarlo un pochino Per quello che mi serviva per la maglietta Questo invece è fatto interamente da zero Ho preso una foto che mi ha mandato Mi hanno detto Rifai questo E io l'ho rifatto In forma vettoriale Lollete Allora Finiando di trinciare Ok Ok Poi a fine video Vedremo anche Il ritorno dell'immagine Dell'iscritto Che Ragazzi Voglio fare anche per la prossima stagione Per favore Poi ossiduamente Quindi se ci sarà poi qualcuno Che vuole partecipare Metterò tutti A fine video L'immagine Di uno di voi Visto che state anche crescendo Tanto io vi lascio sempre il link in download del salvataggio ogni 10 episodi E poi ragazzi ditemi se vi servirebbe un modpack come ha fatto FMarco Delle mie mod Diciamo che magari ad aggiornare insieme al salvataggio Tipo che ne so metto sempre le mod e ogni 10 episodi metto sempre le mod e il salvataggio aggiornato Così almeno siamo a posto Ditemi se può essere utile oppure se preferite scaricarvi singolarmente Perché comunque magari qualcuno ce l'ha già per scaricarvi 1000mega Che poi alla fine vi servirà solo il salvataggio C'è solo una o due mod Vi conviene andarveli a scaricare singolarmente Penso che sia la cosa migliore Poi fatemi sapere voi siete voi i miei fans Siete voi che sapete Ah ma non aveva il collision Siete voi che sapete come devono andare le cose Poi vabbè più avanti inizieremo verso gli ultimi episodi Inizieremo poi anche a parlare delle cose belle e delle cose brutte di questa serie Per esempio c'è già qualche iscritto Qua è Lama ha già iniziato a dire ciò che non gli piace di questa serie Ciò che gli piace Per esempio uno o due si sono lamentati del fatto che Molto spesso Inizio un lavoro Tipo che ne so trinciare questo campo E poi per non so quanti episodi non lo finisco E inizio faccio un po' di qua un po' di là E questa è una cosa che posso tentare di migliorare Ma che diciamo c'è anche una scusante Perché io tutto ciò che faccio più o meno C'è sempre un motivo Perché secondo me non è bello fare tipo dieci episodi In cui trincio solo Poi magari per due mesi Non poter più trinciare Non dovere non poter più trinciare eccetera E non è proprio una cosa che mi piace tantissimo Non mi va tanto a genuo Quindi per come l'ho detto sembrava Gay ingenui Lol Adesso si fa tutto in retro Guardate Agro moderni pro in retro in azione No Perché io non è che sia proprio bravissimo In retro Farò del mio meglio Cercherò di fare del mio meglio Vabbè quella cosa lì Allora 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 Però mi piace avere questi mezzi sporchi Danno Danno tanto l'aria di Io ho lavorato Lol Quasi devo dare tutto il gas Perché Se no non riesco neanche a stargli alla velocità Ovviamente nella nuova stagione Come ho già detto ci sarà la class jaguar Saremo nella mappa al pentale Solo per fare un resume Visto che ormai ci sono tipo 10-15 iscritti ogni giorno 10-15 persone che non sanno cosa Cosa faremo E quindi io vi saluto Ragazzi avete fatto bene ad iscrivervi Io cercherò sempre di portarvi il meglio Anche per quelli che sono già iscritti Ah e riguardo alla configurazione da PC Ho avuto un paio di batti vecchi Diciamo con alcune persone Perché secondo alcuni Non andava bene Nel senso che ci sono altre marche Che costano molto di meno O che allo stesso prezzo Ti danno altre prestazioni Migliori Ehm Pertanto vedrò di fare un PC Non un PC a basso costo Ma un PC economico Nel senso che Vi darò un PC Che molto probabilmente andrà sotto Questo costerà 100 euro in meno Che sulla carta va uguale Poi io non so come marche Se sono più affidabili o meno Ehm Questo un pochino per Diciamo Calmare Ciò che è successo Perché in effetti Io sono andato a cercare Marche buone A prezzi un po' più Bassi Però sempre rimanendo su marche buone Ehm Se no c'è gente che Che magari va su Marche un po' meno buone Però con prezzi bassi E prestazioni migliorate E lì dipende Dai punti di vista E boh Allora adesso Prima di chiudere Perché manca davvero poco Tipo 3 minuti So che Durerà poco questo episodio E volevo iniziare a spalare un pochino Perché ci dobbiamo iniziare a togliere Sta montagna qua Ehm Allora allora Lol Indietro Allora Altro di cui parlare Altro Altro Mi sto dedicando Cioè adesso ho avuto un pochino di tempo Poco un poco Un poco 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 Di tempo in meno Per Per continuare la nuova grafica Eccetera Però Ragazzi cercherò di Diciamo di rifarmi Cercherò di recuperare tempo E soprattutto cercherò di recuperare tutto quello che non sono riuscito a fare In merito a lavori grafici Perché ho una lista veramente chilometrica E mi dispiace dover E mi dispiace dover Lasciare qualcuno che da Tanto Tipo un mese Che aspetta Lasciarlo senza Lavoro Diciamo Senza Non funziona Non funziona tanto bene sta roba Allora Magari la mod moralistic crea conflitto Devo provare Lol 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 Ast Allora lo carico tutto No Non ci sta tutto Oh è già qua il tizio Allora aspettate che scendo e lo faccio scaricare Perché sembra che non so se gli ho dato male nella registrazione o cosa Boh Ferma per cuci Ok Ok Lol Finito il tempo per oggi Quindi scaricherò solo E poi siamo a posto Ehm Wow La screen sta Sta cosa Ehm Allora ragazzi 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 e ragazze Perché Come ho già detto anche nell'altro episodio C'è Guardate John Deere che sente La variazione di peso Ehm Ragazzi e ragazze Perché c'è anche Delle ragazze che ci seguono Io devo farci l'abitudine Dico sempre ragazzi Ehm Dicevo che per questo episodio è tutto Io vi saluto Scusatemi se non abbiamo fatto un gran che Ehm Bene Vi lascio con questa immagine Che ce l'ha inviata Dario 1600 Che non penso voleva farci capire che Ehm Vuole iscritti al suo canale Perché Oddio Quelle iscritte gigantesche Non vogliono dire che lui vuole iscritti No vabbè Non Purtroppo Ho avuto poco tempo Non sono riuscito ad andare a vedere Come è il suo canale Se vuole tanti iscritti Spero Penso che sia attivo Andatevi A fare un giro al massimo Se siete curiosi Se no rimanete a guardare il video su Gromedarri Comunque Lo ringrazio per questa screen E lo ringrazio soprattutto Per il fatto che Ha riportato dopo tanto tempo La La screen dei fan Diciamo Non ha un nome ufficiale E lo avrà dalla nuova serie Ehm Niente Questa screen molto bella Mi piace A parte quella La scritta gigantesca Sul Obliqua Però È bella con il same Con il randazzo E E la trebbia Ehm Niente ragazzi Aspetto anche altre vostre screen Potete scaricare il download Dal O dall'episodio 40 Oppure aspettare il prossimo episodio Ehm Cioè il 50 In cui Caricherò sicuramente il salvataggio Da Gromedarri è tutto Vi saluto ragazzi Ehm Cioè il 50 Grazie per la visione!